Rieccoci ragazzi bentornati a tutti sul canale di Nickwing Game Ora che abbiamo rimesso in sesto il cappellaio, l'abbiamo riassemblato, abbiamo recuperato le braccia e le gambe Dovrebbe darci delle risposte Ci ha chiappato, ci ha bracciato e con un salto gigantesco siamo finiti in quest'altra zona Che dovrebbe essere una delle zone principali del cappellaio Comunque sia, dobbiamo inseguire il cappellaio Perché non ha ancora risposto alle nostre domande Dunque, vediamo un po' dove ci conduce Papà, la tua passione per la fotografia fa buzzare la biblioteca di frontamarcia E sono sicuro che le soluzioni sono tossiche Ok, anzi facciamo una cosa ragazzi Armi Possiamo potenziare sia la lama vorpale o il macina peppe Io direi di andare con la lama Potenziamo la lama va Ma sì Tanto cercheremo di potenziarle tutte al massimo le armi Ce ne mancano altre due che Non ve lo dico Probabilmente già lo sapete se lo avete giocato Ma Non vi dico quali sono gli altri due armi che troveremo Eccolo lì il cappellaio Ci sta facendo strada Coraggio Alice Aprirò questa porta Lanciare una bomba a orologi re in combattimento può dare molteplici vantaggi Distrarrà i nemici Ed infleggerà i loro danni con l'esplosione La Boom Vabbè dai facciamo così Facciamo prima Abbiamo potenziato anche La lama Cappellaio spicciati Ecco che arriva quello grosso No no Sì ma anche noi cacchio Ci buttiamo giù No fatemi eliminare prima questi Bravissimo Eh viene 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 Occhio Senti ci possiamo mettere Che cazzo Eh hai rotto il cazzo Ce l'hai fatta Qua non c'è niente Mi sa ragazzi Sembra un terremoto Che cosa succede? È il treno È il treno infernale È il treno inferno È il treno inferno È il treno inferno Or dunque Sapete che non mi ricordo C'è qualcosa qua che devo Ah ecco 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 È il treno inferno Allora Saltiamo qui Ci buttiamo giù Sì No se non aiutiamo il cappellaio Non ce ne andremo mai da qua Atteniamo la leva Cappellaio Sto qua Aspetta Aspetta eh Dammi un attimo Il treno inferno Il treno infernale Abbiamo trovato la causa del dissesto Quei due tremano Cosa combinano? Non ci fermerete sciocchi cappellaio e Alice E' partito Siete in ritardo Che esecrabile creanza Sono distruttori Del paese Delle meraviglie Devastatori Disturbatori Denigratori Delizioso Hanno creato il treno infernale Per distruggere il paese Delle meraviglie Cosa importa? Meritano di morire Sono stati loro due ragazzi No Oh Che succede? Non mi ricordo Basta false speranze Dimentica il passato Il danno è fatto La pazia Abbia inizio Ritorni la follia Aspetta è fuori Vi giuro che ragazzi Non mi ricordavo affatto Di questo robottone Gigante Super Mega Gazzucco No Il mio pezioso dominio E gli ospiti Tutto quello che volevo Era sorprendere l'altro te Cappellario, l'hai promesso. Dov'è diretto il treno? Qual è il suo scopo? Dimmelo. Ora. Non c'è tempo per tutte quante queste chiacchie. È l'ora del treno. Parla del treno, un tartaruga. Si occupava delle fenobie dello specchio. Coraggio a voi altri. Possiamo ancora essere amici. Ho un ottimo targine. Vivete. Vivete. I miei ricordi sono in fronte a me. Sto cercando di raccogliere i pezzi e credo che il treno me lo impedisca. Devi aiutarmi. L'hai promesso. Chiedi a quello che aiuta chi si aiuta. Chi vuoi questo senso? Molto laconico. Si meritava di morire. E io sto per annegare il treno senza sapere. C'era da aspettarselo, ragazzi. Ho pescato una ninfetta tutta mia. Sì, gliel'ho dato il cielo. Lui opera in modi misteriosi. Hai progetti per lei? Portarla alla silena straziata. No, acqua e sudice. Affittare un letto. Difficile corteggiarla in una rissa. Cosa credete di fare? Ciò che viene naturale. Per me non è naturale affatto. Levati. E siamo tornati alla realtà, diciamo così. E lì c'è già il micio che ci attende. Il gatto bianco mi ricorda Nerina. La baia la conoscevo. Ok, dobbiamo raggiungere la sirena straziata che... È una bella nebbia stasera, eh, Jake? Già, non vorrei essere là fuori. È un allocando, un bordello, qualcosa di simile. Non ho idea di cosa ci sia in quelle casse. È la materia di cui sono fatti i sogni. Il più vicino possa stare a un luogo esottico. Ok. Usciamo dal retro. Scogliamoci una pinta alla sirena straziata. Eccoci qua. La sirena straziata. Ma questi... Due spilungoni mi sa che non ci faranno entrare. Al bocconcino spigoloso piace bello tosto, ci scommetto. Un'offerta generosa, ma... Ho un appuntamento con un altro uomo. Beh? Quanto vuoi metterla giù dura? Sappiate che il dottore dice che ho una malattia terribile. Passiamo dal retro, va. Dove sono i miei soldi? Mezza sega maledetta. Fai lavorare quelle tue grasse puttane o vengo su a spaccarti la testa. Fa il culo, cazzo moscio. Non oltrepasserai mai, temi in lungo. Avrò ciò che tu e le tue battone mi dovete, signorina. Vedrai che sarà così. Forse avrai notato che non me la sto esattamente facendo sotto all'idea. Ma lì c'è Lidl. Ma che bella sorpresa. Ciao. Guarda sul tuo disordinato personale. Ok. Possiamo entrare da qua. Oh, che è successo? Tim diceva che sarebbe morto per una malattia a veneria. Il pover'uomo non sognava che si sarebbe chiamato Jack Splatter. Mostrate il coniglio al cane. E qual è? Quello in fondo. Ma finiscila, è quasi andato. Tre scellini. Quattro a uno o niente. Se non mi dai ciò che voglio darò fuoco a questo tuo ammasso di rifiuti. Vai via. Cosa ha fatto di male? Ha ferito i miei sentimenti. Oh. Aia. Oh. 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 Dove siamo finiti E' una spiaggia Tundracolo Oh che belle stelline Ragazzi siamo tornati Dopo una battosta Siamo svenuti all'interno Di quella stamberga Che sta lentamente bruciando E dentro ci siamo noi E siamo tornati Nel paese delle meraviglie Però è un luogo particolare Guardate la luna Io direi Il video non è uscito lunghissimo Sì ne sono consapevole Però Che cacchio è quello? Un pesce? Mi ricordo pochissimo di questa zona Ragazzi però è una zona molto particolare E' suggestiva Guardate lì c'è La nave in bottiglia Là in fondo Dobbiamo raggiungere Mi sembra Quel posto là Non mi ricordo Ma lo scopriremo Al prossimo episodio ragazzi Voi come sempre Fatemi sapere la vostra Lasciate il like Condividete Iscrivetevi al canale Se vi fa piacere E noi ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti